Ciao ragazzi! Per chi non mi conosce, mi chiamo Leonardo Soprani e sono qui oggi per entrare nella tua casa e condividere una parola di Dio in mezzo a questa situazione che stiamo vivendo. Voglio cominciare con una domanda. Estare a casa oggi, in mezzo al coronavirus, è stato noioso o divertente? Ti do due secondi per trovare una risposta. Vorrei dirvi che c'è una risposta giusta, ma non c'è, non esiste, perché questa risposta dipende da te, dipende di come tu vedi la vita. Agli occhi umani possiamo vedere la vita in questo momento è noioso, perché non posso uscire da casa, non posso uscire con i miei amici, non posso spendere le mie soldi, non posso andare a scuola, non posso fare quello, non posso fare questo, non posso fare niente. Quindi è noioso. Ma agli occhi espirituali tutto cambia, è diverso. E stare a casa oggi è divertente, perché posso stare a casa con la mia famiglia, posso giocare con i miei fratelli, e sorelle, posso riposarmi, posso riflettere, leggendo la Bibbia e pregando a Dio, in modo che Lui mi fa forte, paziente, e mi dà l'esperienza di stare felice in Dio Gesù. Quindi, voglio leggere una parola nel libro di Romani, capitolo 5, versetto 1 alle 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nell'esperanza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nell'afflizione, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Or, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nel nostro cuore mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi, dobbiamo ringraziare a Dio in momento felice, in momento male. Quindi, un'altra domanda per voi, con quali occhi tu vedi la vita? e ti invito a pregare a Dio. Se vedi la vita con gli occhi umani, possiamo pregare a Dio perché Lui possa cambiare la tua visione. ma se già vedi la vita con gli occhi spirituali che possiamo anche pregare a Dio perché possiamo essere luce a altre persone che non vedono la vita come noi. e adesso una sfida per voi. Prendi il cellulare dei papà dei genitori e dobbiamo inviare un messaggio almeno tre persone con un versetto bibico e con questa frase che sta qui giù nel video Cancelletto con Dio tutto andrà bene. Baccia a tutti che Dio vi benedica. Ciao ci vediamo alla prossima.